E siamo alle nostre breaking news, ben trovati in apertura, il meteo in peggioramento, già da queste ore le condizioni meteo saranno in peggioramento, è previsto un'allerta meteo giallo soprattutto in costa ma forti ventate sono in calendario anche nelle nostre zone anche se sarà una perturbazione breve ma come si suol dire intensa. Parliamo di Forum Risk Management, parte al centro affari la settimana della sanità con incontri con personaggi in primo piano per quanto riguarda la gestione della sanità ma l'invito è aperto ai cittadini per partecipare e verificare le novità e tutto quello di cui si parlerà al Forum. Chiudiamo con la notizia del Gran Gala dei Cavalieri, si è svolto a Faenza, ci sono stati riconoscimenti anche per scuderie e cavalieri di Arezzo, dunque una bella festa in terra di Emilia Romagna. Queste le nostre notizie principali che potrete ritrovare sui nostri canali social e nei nostri RTG. Grazie e arrivederci.